Ciao, sono Raffaele Cinquegrana, Product Portfolio Manager di LG. Che giorno è oggi? Lo so bene, è il 2 di settembre, mi hanno appena cancellato il volo per tornare a casa. E dove siamo? Siamo a Berlino, alla fiera IFA. Ho sentito che avete presentato un nuovo smartphone. Mi dici qualcosa di più? Mi sa che hai sentito bene, anche perché se non sbaglio è stato eletto come il migliore della fiera. Comunque, il V30 è lo smartphone ideale per chi vuole portarsi uno schermo OLED dei nostri giganti ma direttamente in tasca. Perché ha un display OLED full vision da 6 pollici che ha tutte le caratteristiche dei nostri fantastici televisori. Quindi ha un contrasto elevato, un nero perfetto e dei colori perfetti. E sta tranquillamente in una mano perché è leggerissimo. Ma ha anche la doppia fotocamera posteriore, grande angolare a 120 gradi e una funzione, grazie alla fotocamera da 16 megapixel con sensore HDR, una funzione che vi trasformerà in veri registi grazie al color grading in diretta. E poi l'audio B&O Play con anche le cuffie B&O Play in confezione e il quad DAC per un audio straordinario. Senti, dimmi la verità. Qual è la caratteristica che preferisci di LG V30? Ah, sicuramente quella dei video cinematografici. Ho fatto un video thriller nel corsello del box di casa mia che è una meraviglia. Dimmi perché dovrai scegliere LG V30 invece di un telefono della concorrenza. Perché ha delle funzioni uniche, esclusive, è molto leggero, è bellissimo ed è insomma il miglior telefono in circolazione. Grazie mille Raffaele, di solo ciao. Ciao.